Amo il suono del silenzio. Lo rendo vivo con melodie e armonie. Mi chiamo Alex Gariazzo e sono un musicista. Avevo cinque anni quando ho trovato dei vinili nella casa di campagna dei nonni. Da quel momento ho capito quale sarebbe stato il mio futuro. Non saprei dire se sono stato io ad aver scelto la chitarra o se è stata lei a scegliere me. Stare sul palco è un'emozione unica per me. Ma meglio ancora arrivare davvero a chi ti ascolta. Non amo molto i social media e la tecnologia. Penso che un suono puro sia meglio di uno artefatto e che un'esperienza vissuta valga più di mille immagini o frasi ad effetto. Ma sapete cos'è sexy? Una vera conversazione. Amo viaggiare e il mio lavoro mi permette di scoprire sempre nuove mete e realtà. I suoni e le tradizioni di altre culture, così come la riscoperta delle proprie radici, sono gli spunti per creare musica originale, nuova. Lo stile per me è personalità nel suonare e nel vestire e l'eleganza è un obiettivo da raggiungere nella musica e nella moda. Puoi essere rock'n'roll con l'abito più elegante che hai o totalmente di classe anche con un semplice pantalone e una t-shirt. Slowitude è la lentezza di una passeggiata solitaria nella natura, lontano dalla frenesia della città. E accorgersi che ogni tanto si deve rallentare per cogliere ciò che si rischia di perdere. E accorgersi che ogni tanto si deve rallentare